Netflix analisi mensile agosto 2020 allora chiaramente titolo che non ha bisogno di nessun tipo di presentazione titolo di programmazione in streaming niente che dire guardate il grafico e giudicate voi quindi come tanti altri titoli americani che bello sarebbe stato nel 2010 solo che 10 anni fa averlo in portafoglio però come al solito con il senno di poi niente cerchiamo di evidenziare subito alcune aree di prezzo importanti per capire dove e quando chiaramente non ora perché siamo praticamente sui massimi e abbiamo un titolo che continua a strappare al rialzo quando e dove poter provare a inserire questo titolo in portafoglio per chi fosse chiaramente interessato in linea generale al titolo allora come potete vedere in tutta questa prima fase di questi anni il titolo è sempre cresciuto con una bassissima volatilità c'è un mese che contraddistingue diciamo il prima dal dopo ed è il mese di allora è questo mese qua gennaio 2018 perché gennaio 2018 vedete come in maniera violenta in maniera importante il mercato comincia a comprare i massimi quindi questa questa area qua diventa molto importante ok perché in questo punto in area 2 c tra l'altro guardate di nuovo cifra tonda 200 dollari il mercato compra violentemente i massimi di tutto questo periodo e si appresta appunto a andare al rialzo in maniera importante quindi che cosa vuol dire vuol dire che è presumibile che il mercato tornando su questi livelli anche se ben distanti in questo momento da quel livello probabilmente sarà anche un livello che il mercato non rivedrà mai più chissà questo non lo possiamo dire noi possiamo semplicemente evidenziare livelli che poi il mercato ci possa tornare o no questo non ci può interessare relativamente quindi sicuramente questo un livello importante un livello da attenzionare e subito sotto subito sopra scusate un livello anzi qui direi una fascia di prezzo identificata in questi due swing di nuovo molto importante perché sia la prima volta che la seconda vedete che il mercato questa volta questa prima volta in cui va a formare questo swing non arriva in area 200 ma da 426 torna in area 234 quindi comunque si avvicina a quest'area il mercato poi reagisce va al rialzo non riesce a generare un massimo più alto vedete torna indietro e si ferma di nuovo un po' più in alto dello swing precedente per poi generare chiaramente un massimo più alto che in realtà ancora non si è formato perché non abbiamo uno swing il mercato continua a rialzare ad andare a rialzo quindi c'è da dire che a parte questa candela di aprile 2020 guardate come la candela di marzo è stata subito riassorbita poi probabilmente nel periodo del lockdown sono servizi che hanno beneficiato di particolare interesse quindi si sono apprezzati stando tutti in casa la candela di aprile riesce a comprare i massimi tutti i massimi precedenti però invece la candela di maggio giugno non riescono a strappare al rialzo lo riesce a fare a malapena a quella di luglio che si spinge fino ai massimi assoluti la candela di luglio di quest'anno 2020 pensate genera i massimi assoluti a 576 dollari che dire la candela di agosto adesso sembra intenzionata ad andare a rialzo è anche vero che abbiamo tutti gli indici gli indici sui americani sui massimi e quindi chissà non sicuramente un momento propenso ad acquistare noi cerchiamo sempre di acquistare basso per vendere alto come nelle più tradizionali leggi di mercato quindi quali possono essere i livelli importanti su cui comprare beh io ne identificherei tre al di là del fatto che possano essere vicini o lontani sicuramente uno è lo swing è questa spike non swing è questa spike di marzo che lascia traccia a 290 dollari i secondi sono questa fascia la seconda area la seconda fascia sono questi minimi quindi in rottura di questi minimi e riassorbimento si potrebbe tentare e anche questo è un livello che secondo me poi essendo anche cifra tonda il mercato potrebbe sentire ripeto siamo distanti quindi abbiamo tre livelli di prezzo interessanti potrebbero esserci anche questi massimi comprati qua a 390 ma in ottica di lungo periodo io questo livello non lo considererei spererei di trovare possibilità di entrata su livelli più bassi quindi bisogna attendere per chi vuole posizionarsi bene in maniera intelligente per il lungo periodo alle volte bisogna attendere anche mesi se non anni sicuramente a livello grafico questi sono i livelli più interessanti da attenzionare vediamo vediamo graficamente adesso su agosto come si svilupperà proviamo a vedere ad esempio sul giornaliero per un'operatività un po' più di breve periodo e vedete come si può fare lo stesso discorso considerando tutti questi swing ecco che questo livello qui a questo punto sul giornaliero può diventare interessante per un'operatività più di breve periodo vedete come questo livello qui si è sentito qua si è sentito qua e al suo superamento e al suo ritorno venga di nuovo sentito qui come tetto qui come pavimento per dare spinta poi al rialzo quindi è chiaro che questo piccolo swing con questa spike questo livello qui 395 400 possano essere un livello interessante magari più sul breve periodo ed è lo stesso livello che io non ho considerato non ho considerato in ottica mensile vedete è questo è praticamente la candela di aprile che compra tutti i massimi precedenti a parte quelli dello swing del 2018 quindi vedete la candela di aprile esattamente compra i massimi di marzo di febbraio di tutti questi mesi qua quindi quello potrebbe essere un livello interessante più in ottica di breve periodo ognuno poi deve trovare la propria dimensione operativa e la propria attraverso la propria strategia e attraverso la propria intenzione temporale diciamo quindi niente aspettiamo lo sviluppo per quanto riguarda anche Netflix attendiamo il mese di agosto se riserverà particolari sorprese o il prezzo continuerà a dirigersi verso i massimi assoluti